Buongiorno, sono Pino Desario, il docente di facilitare la didattica a distanza, sono psicologo dei gruppi, esperto in facilitazione degli scambi e della comunicazione. Questo corso è composto da tre parti, è rivolto agli insegnanti ovviamente, una prima parte l'ho chiamata appunto facilitare l'ingaggio sociale che è un criterio importante che viene sia dal mondo delle scienze della comunicazione ma anche dalle neuroscienze, per cui i criteri psicobiologici di come un insegnante può creare appunto questa connessione non soltanto elettronica ma anche interpersonale con i ragazzi nella lezione a distanza. Una seconda parte è appunto più l'insegnamento a distanza, anche qui sotto il profilo appunto non della tecnologia informatica e multimediale ma più che altro sotto i profili della pedagogia e del buon stile organizzativo di un insegnante, per cui l'insegnare a distanza sotto questi profili pedagogico e organizzativo. Terza parte, il superamento delle negatività, siamo molto sotto pressione, i nostri sistemi nervosi sono veramente molto in difficoltà per questo distanziamento, questa chiusura nelle case, per cui la gestione delle emozioni negative è un passaggio importante che l'insegnante debba curare con se stesso, se stessa e possa avere rilievi anche nella dinamica di relazione con i ragazzi, per cui le emozioni negative come capacità di osservazione e di regolazione delle emozioni e lo sviluppare fonti di benessere, di qualità della vita pur essendo in una fase così critica, per cui queste le chiameremo le forme vitali. Queste tre parti, l'ingaggio sociale, l'insegnare a distanza e il superamento delle negatività, sono un po' le tre parti importanti di questo nuovo corso che vi incoraggio a partecipare e a frequentare.